Ritorniamo in studio, parola chiave di questa tranche è l'Europa e la cassaforte. Qual è la premessa? Che qua pare di intendere che i soldi sono finiti. Qua dico parlando e dando conto delle lamentele e dei disagi che esprimono senza troppe riserve gli enti locali, di quello che arriva come segnale naturalmente anche dallo Stato centrale, le regioni sono nel mezzo, poi andremo a vedere come anche i riassetti geografici successivamente potrebbero dare segnali in questa direzione, allora la cassaforte dove ci pare di intendere che si trovi? In Europa. Io ricordo Stefano Bonaccini all'indomani dalla tornata elettorale di quella domenica disse se in Europa mi vedranno, a Bruxelles naturalmente, mi vedranno spesso, ci sarò e sarò presente, allora questo ci lascia intendere che forse, non lo so, ci dica, ci sarà un assessorato ad hoc, un assessore che avrà un impegno specifico su questo? Sì? No? La metteremo una competenza specifica sul tema dell'Europa e sul tema di, come dire, facilitare tutto ciò che ha la voce, al di là dei tecnici, ovviamente delle strutture tecniche, progetti europei, perché credo che lì potremo giocare una partita importante, peraltro abbiamo già due miliardi e mezzo per i prossimi sei anni sul tavolo di Bruxelles come ipotesi di lavoro e su quella del governo nazionale, dove metà vanno sull'agroindustria, l'agroalimentare e l'agricoltura, mezzo miliardo di euro su ricerca e innovazione, gli altri su infrastrutture di sesto idrogeologico, ma noi possiamo attivare ulteriori richieste di fondi europei e bisogna farlo in partnership con altre regioni e perfino con altri paesi europei, come abbiamo provato ad immaginare. Poi, oltre a questo, io mi auguro, arriva una parte, le dicevo, del piano Juncker, dove una parte di miliardi che arriveranno verso l'Italia, spero, ma credo sia così, possano essere destinati anche verso la nostra regione. Sarà una delega importante questa. Sbaglio o, come dire, un nome, un volto, un profilo, potremmo già averlo in mente. Io penso a un ex rettore, economista di Ferrara, già assessore in materia di lavoro, formazione nella Giunta Eranica, parlando di Patrizio Bianchi, che tra l'altro ha dato un contributo concreto anche nel redigere i contenuti economici del suo programma. Può essere, non è scontato, ma può essere che sia così. In ogni caso, ripeto, ho detto a Bruxelles, mi vedranno spesso, nel senso che noi dobbiamo stare laddove si decide e laddove si può giocare un peso che oggi, e concludo, questo meritoriamente, il Partito Democratico guidato da Matteo Renzi ha saputo posizionare l'Italia. Essere la prima forza politica in Europa ha fatto sì che, deludente o meno, il piano Juncker sia una svolta rispetto a questi anni in cui, mediamente, si è premiato più. Dal mio punto di vista, la finanza, la rendita, la speculazione, piuttosto che l'impresa, il lavoro, gli investimenti. Noi abbiamo bisogno anche di risorse pubbliche, che peraltro quando investite generano sempre un doppio di investimenti privati. Vale per quello che ho detto nell'allentamento del patto di stabilità interno per quanto riguarda l'Italia, vale ancora di più per quanto riguarda l'Europa, che allenti un po' i cordoni della borsa e metta fuori un po' di investimenti che servono anche peraltro per i paesi per invertire una rotta di ammodernamento che magari, come il nostro paese, non dappertutto ha saputo attivare. Questa, insomma, potrebbe diventare una delega forse particolarmente importante e particolarmente significativa per i prossimi cinque anni. Il tema qual è? Che io, adesso l'altro giorno, è uscito uno studio condotto da opencoesione.gov.it online, dice che in realtà l'Emilia-Romagna non è tra le prime regioni, anzi è la sesta, per la capacità di spesa dei fondi europei relativi al periodo 2007-2013. Allora mi sono fatta una domanda che rivolgo a Marchesini. Ma che strano. Non è, le pare strano. Il Trentino sveta, magari siamo bravissimi a trovarli, però le chiedo se effettivamente è così e forse diventa più complicato. Ma non so, più del 103% facciamo fatica a spendere, perché siamo già oltre quelli che abbiamo. Comunque... Ma la domanda che io le volevo fare è ma è effettivamente così facile arrivare a quella fonte, a quella cassaforte o ecco... No, non è affatto facile. E il fatto che non sia facile dimostra il fatto che molte regioni italiane non ci riescono, ma vorrei precisare anche che soprattutto molti ministeri non ci riescono. Sì, è vero. Perché è tutto concentrato sulle regioni, ma i peggiori, diciamo, diciamo, i peggiori nello spendere i denari europei sono proprio i ministeri, quindi attenzione. Non è affatto facile, tra l'altro, non solo io come Confindustria, abbiamo lanciato una proposta anche, in qualche modo, di una premialità per incentivare la spesa delle regioni. Una premialità che in qualche modo aiutasse le regioni che meglio spendono e più spendono, perché non basta solo la quantità, ci vuole anche la qualità. E avevamo anche lanciato una proposta di un controllo in itinere di questi fondi, cioè non arriviamo alla fine per renderci conto che non abbiamo speso X miliardi e che dovremmo restituire, ma facciamo questi controlli man mano che il settennato procede. Purtroppo il cambio continuo di governi di questo periodo non ha aiutato certamente a prendere decisioni a livello nazionale in questo senso. Mi auguro che ci sia ancora tempo per fare qualcosa che da una parte sia premiante e dall'altra sia, come dire, vincolante per le regioni sulle spese. Perché anche, insomma, da quello che noi raccogliamo non è così immediato. Bonaccini prima diceva creare anche delle sinergie per fare un blocco, insomma, più importante, avere più possibilità di riuscire ad ottenere questi fondi. Però per un'impresa che magari ha un'ottima idea, Marchesini mi conferma, magari un'impresa giovane, quindi non ha tutti gli strumenti, però crede di avere i requisiti, capire quali sono le porte alle quali bussare e riuscire a determinare il modo per arrivarci, insomma, è come quando si parla di urbanistica, no? Diventa tutta una serie di sigle pazzesche e incredibili che danno in realtà un potere ad altri e ti impediscono poi di arrivare al punto in maniera, e qui di nuovo, burocrazia e magari canali diretti. Sì, sul tema della programmazione c'è bisogno di fare sinergia, peraltro ci sono poi le stesse associazioni che accompagnano i loro associati, le imprese. Voglio dire solo una cosa per non rubare tempo però che è questo tema di una grande occasione che abbiamo che si chiama Expo. Prossimo anno per sei mesi decine di milioni di visitatori verranno a pochi chilometri da qui, abbiamo l'occasione di attivare, ieri sera l'abbiamo presentato a Parma, progetti importanti e siccome il titolo è il cibo, il food, io credo che questa regione può giocare una partita straordinaria. Il tema dell'agroindustria e dell'agroalimentare è uno dei segmenti produttivi in cui nei prossimi anni io sono sicuro avremo il segno più davanti e non il segno meno e siccome abbiamo detto nell'export noi eccelliamo, nel mondo ci sono più persone di prima che stanno bene, certo anche una parte è considerabile che sta male, ma ci sono circa 700 milioni di persone che rispetto a 15 anni fa hanno più soldi da spendere e cercano il Made in Italy. Lei tenga conto che noi, lo raccontavamo ieri sera, siamo la regione, e lo dicevamo a Parma dove c'è l'agenzia perfino dell'autority alimentare europea, siamo la regione che ha più prodotti IGP e DOP non in Italia che lo siamo ma in Europa e quindi c'è un'occasione incredibile e insieme a questa occasione possiamo presentare al mondo i nostri prodotti, le nostre eccellenze, le abbiamo descritte prima non solo nel cibo e io mi auguro sia anche un'occasione per sviluppare il tema del turismo perché noi siamo una regione che oggi su quel versante produce l'8,6% del PIL io penso che vinceremo la sfida se nei prossimi 5 anni ci metteremo la doppia cifra perché dobbiamo vendere un brand che si chiama Emilia Romani uscire dal policentrismo e da Piacenza Rimini presentarle tante eccellenze Ci arriveremo volevo sentire Massimiliano Marzo abbiamo parlato di Europa come opportunità abbiamo accennato anche all'Europa come a quella che ci tiene chiusi i cordoni ci dà dei limiti di spesa e di comportamento anche perché ci manda delle letterine molto chiare No ma il tema dell'Europa è un tema molto complicato io credo che sia molto giusto mettere come dire dei fermi dei punti fermi molto importanti riguardo all'Europa l'Europa ci serve come disciplina e credo che però l'Emilia Romagna da questo punto di vista non ne abbia bisogno di tanto perché non è una di quelle regioni sui quali si registrano debiti a livello di enti locali come invece in altre regioni però va detto sicuramente che l'Europa ha una visione veramente molto strabica del rapporto esistente tra cittadini e istituzioni locali strabica intendo dire per certi paesi funzionano certe cose per altri devono funzionarne altre basti semplicemente dire una cosa che in Germania le regioni possono direttamente erogare il credito attraverso le banche regionali questo se lo facessimo noi in Emilia Romagna o in qualunque regione italiana la lascio a tutti immaginare quello che accadrebbe evidentemente a livello europeo cioè quindi una levata di scudi aiuti di Stato e qui e lì cioè queste sono cose che evidentemente noi non possiamo fare tuttavia va detto un fatto cioè noi dobbiamo ricordare che questo è stato detto certamente il cibo è uno dei punti di forza però io sogno diciamo così un tessuto produttivo della nostra regione che non sia fatto soltanto di imprese che producono beni intermedi per l'industria tedesca questo è il mio sogno cioè io vorrei veramente vedere un tessuto produttivo di imprese che siano forti molto forti sui mercati internazionali perché purtroppo quello che è accaduto negli ultimi anni che molte nostre imprese che sono erano e sono detentrici di progetti di qualità brevetti di qualità eccetera hanno finito col fare come dire la ruota di scopo in qualche maniera produrre beni intermedi per i beni finali poi tedeschi che sono quelli poi che vanno sui mercati internazionali quindi io credo veramente che dobbiamo fare uno sforzo serio di dire all'Europa in faccia con grande chiarezza cos'è che non va e sono tante le cose che non vanno in Europa certamente l'Italia ha un sacco di colpe e su questo non possiamo tirarci indietro però va detto che anche in Europa non possiamo più disconoscere il fatto che molto spesso le nostre imprese competono in maniera totalmente disomogenea e non solo perché noi abbiamo tanta burocrazia ma anche perché c'è uno diverso modo di applicare le regole e quindi questo è un punto su cui bisogna veramente ripassare un po' di cose ma molto velocemente sulla burocrazia europea nella distribuzione dei fondi è vero la burocrazia europea è imponente però le associazioni sono attrezzate per vincolare anche una piccola impresa che abbia una buona idea a ricevere soldi europei quindi la possibilità esiste sarebbe bene che si abbassasse un po' questo livello di burocrazia ma bene però questo è e con questo dobbiamo combattere d'accordissimo sul discorso dei prodotti intermedi perché quando sentivo Bonacini parlare di agroalimentare io sono profondamente d'accordo però dobbiamo avere anche le reti distributive se non riusciamo a possessarsi delle reti distributive non riusciamo a portare i nostri ottimi prodotti all'estero mi riferisco soprattutto all'agroalimentare ricordiamoci che noi esportiamo la metà della Germania e meno del Belgio nell'agroalimentare che è una cosa scandalosa 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 per far questo abbiamo bisogno ovviamente non solo di avere degli ottimi produzioni degli ottimi produttori ma abbiamo bisogno di farci conoscere e di saper distribuire all'estero queste cose per quello che dicevo che il piccolo e bello da solo non vale più lei prende la Granarolo è prima in Italia abbondantemente per accolta di latte e produzione di latte è il ventesimo gruppo in Europa ed è una dimensione che secondo me nei prossimi anni deve essere aggredita per diventare se non altro insomma in qualche posizione ulteriore di classifica quello è solo un piccolo esempio Marzo? Sì mi aggancio su questo tema per fare questo ci vuole bisogna ragionare sul tema della finanza la finanza buona non la finanza cattiva allora quando parliamo impresa che ha una bella idea piccolina oppure parliamo della Granarolo è lo stesso problema è la stessa dimensione del problema cioè allora noi dobbiamo fare capire che la regione può in qualche maniera servire anche come catalizzatore per dei fondi non necessariamente solo pubblici ma anche privati cioè io penso veramente al discorso del private equity che in Italia non è non ha sfondato e non sfonda così come è ad esempio in altri paesi e quindi io il crowdfunding per esempio parliamo di banda larga abbiamo parlato di internet io sono assolutamente certo che la regione può benissimo essere come non dico incubatore è un termine sbagliato però come dire può servire come quell'agente catalizzatore per far vedere quali sono i progetti buoni le idee innovative e poi servire come soggetto che aiuta la raccolta fondi per canalizzare verso investimenti cioè dobbiamo veramente cambiare la prospettiva cioè la finanza è il motore dello sviluppo se usata bene noi abbiamo avuto esempi deteriori ma non ci sono solo gli esempi deteriori quindi credo che dobbiamo veramente anche cambiare un po' la mentalità il settore pubblico non potrà più fare la stesso giocare più lo stesso ruolo che giocava nel passato questo ce lo dobbiamo assolutamente chiarire però il settore pubblico può concentrare le sue energie dove il mercato fallisce e allora la sanità ad esempio è uno di quelli l'assistenza alla persona ecco però tutti gli altri settori facciamo in modo che il settore pubblico aiuti a canalizzare le risorse per la crescita questo è un grande ruolo strategico c'è una tradizione insomma emiliana anche in questo insomma se ne parlo nella sanità mi viene in mente sicuramente il pubblico è privato assolutamente guarda io c'è una situazione di tendenza visti i tempi beh adesso noi avremo una contrazione di risorse verso le regioni al di là della sanità ci sarà c'è un taglio previsto che adesso vedremo che dimensioni reali avrà per ogni regione lei ricorderà sono stato tra quelli che tra i pochi forse che prima ancora di diventare presidente non ha gridato al lupo al lupo perché se questo paese ha bisogno di una manovra che liberi risorse per la crescita e per il lavoro e che punti ad abbassare ad esempio il costo del lavoro tagliandolo e che vada a tagliare un po' di tasse per le imprese o restituisca a oltre 10 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 1500 euro dipendenti nel pubblico e nel privato per dargli l'80 euro al mese che diventi una scelta stabile non di brevissimo periodo è chiaro che da qualche parte le risorse vanno trovate e sono convinto che ognuno debba fare la propria parte quindi anche le regioni l'importante sarà quello di sapere dove andare a tagliare ci sono sacche dove ancora si può intervenire e io credo che dobbiamo ognuno di noi fare la nostra parte e quando mi riferivo al terzo settore indicavo uno di quei comparti in cui nella cura alla persona il pubblico può trovare il modo di provare in alcuni servizi a controllare di più e gestire di meno e liberare risorse che possano col privato sociale la cooperazione sociale il privato non profit garantire perfino che oltre alla quantità di servizi carreghi dove il pubblico deve stabilire qualità che non si abbassi ma si possono davvero creare anche posti di lavoro allora sarà un gioco di nuovo di incastro un tetris incredibile considerando la contrazione delle risorse e l'aumento delle esigenze questo è lo scenario che si profila noi adesso ci fermiamo e tra poco parleremo di geografia come detto perché penseremo macro vediamo in che termini